è dalle 8 stiamo qua a che ora arriva? per le 13 non vedo l'ora di presentarti oddio io e lui siamo come fratello e sorella come pop e ciccia come mimì e cocò le nostre anime si fondono i nostri corpi si intrecciano siamo proprio un'anima sola c'è tanta complicità c'è amore abbiamo capito siete amici va bene basta madonna mia come me e marco? no di più come me e luca? no di più come me e giuseppe? no di più come me e matteo? no di più e lui? si arrivo è il cosiddetto con le valigie come valigie? quanto deve stare? una settimana ma quanto sei finita mia? eccoci amore sole vita gioia cuore patatina o pizzetta o tartare ebbè ci sta sembrando la puntata di benedetta fatta in casa vabbè basta basta madonna abbiamo capito siete amici? ma simpatico l'autista del taxi? questa scatola? presa nolleggio? lui è il mio ragazzo Hermes e devi sapere che lui ha il mercedes carbo che vuol dire carbo? che vuol dire carbo? cabrio 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 che c'è il brum brum bello si di un po' ma la tua ci va a 170 km orari? diciamo che la mia va ad orario nel senso che mattina tardi si riscalda e poi io digito la destinazione e lei mi porta accenditi spegniti è un po' automatica mi ha sempre parlato di te siete grandi amici da quant'è che vi conoscete? no ma da un sacco di tempo cioè tu pensai che ancora non esistevi proprio c'è proprio zero 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 noi sappiamo tutto l'uno dell'altra vabbè pure io conosco benedetta che vuol dire ci conosciamo da tempo che no? conosciamo tutti i tuoi gusti eh che cosa mi piace mangiare? la... tutto a lei mi piace mangiare tutto Joy provo di cosa ti occupi nella vita? ma guarda io faccio l'ingegner finances Francis per una grande azienda faccio big money eh amo lui è wow digli un po' il tour che hai fatto ma niente di che mi hanno chiamato in russia per una convention sono passato per singapore ho fatto scala ostio passando per gli stati uniti e poi niente mi ha richiamato qui in italia è proprio wow 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 e tu? wow wow nel senso porto il canna a pisciare e poi torno a casa perchè faccio un lavoro da casa quindi vabbè e andiamo? andiamo possiamo vedere Roma in questa scatola eh guarda predo marcia eh adesso prima e allora che ci racconti? ma non puoi capire che è successo a Marzia si è lasciata ma davvero con Luca? si praticamente dopo che l'ha visto con Asia ma scusa Asia non si era licenziata? ma Marzia chi era? si si è licenziata e si è fidanzata con Luca poi non puoi capire che è successo a Peppe Peppe chi è? Peppe quello che abita sopra d'Asia si ma non sto capendo i collegamenti si praticamente ha messo in cinta Angela e Francesca due donne vero Peppe o Asia si si una cosa incredibile e poi ha lasciato Angela e Francesca e sei messa con Asia ma Luca è chi? e poi Asia non ha aperto un ristorante l'anno scorso ma mamma mia non puoi capire che cosa è? eh fushi giusto? e per il mese prossimo quando andiamo a Dubai mi dovresti cortesemente per notare una camera a sette stelle si quella superior beh parliamo un po' così ci conosciamo meglio eh anche perchè Titina mi parla sempre di te davvero? no che lavoro fai? l'attore che musica ascolti? musica d'autore, Lucio Dalla, De André, Battisti che signo sei? Ariete Ascendente Vergine mmmm un attimo solo che devo fare benzina arrivo eh? no 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 aspetta 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 dai mi sei anche venuto a prendere questo cattorcio ci penso io la benzina dai ah grazie soldi? ah ah metti tu eh certo no certo I Dubai in competition ti vieni grazie grazie a te che calma Dio che calma Dio wow Ok, fatto. Ecco il resto. Ti ho fatto anche risparmiare, ti ho messo quella che costava di meno. In che senso hai fatto risparmiare? C'era quella da 1,90 e quella da 1,60. Ho messo quella che costava di meno. Hai usato la pompa nera? Sì, quella nera. Mi sembrava si intonasse anche meglio la macchina, giusto? Certo, perché la benzina si mette a secondo del colore della macchina. È chiaro che ha messo lui il diesel mentre la mia macchina va a benzina. Ora è che ci succede, è una bella sui gatico. Calma, ti respira. Respira, stai respirando? Sei rilassato? Sì, si è rotto il motore. Cosa, tanto? Secondo me è intorno a 250, 250. Vabbè, ma stai tranquillo, Giulia. Non è successo nulla di grave. Caffettino? Caffettino, bravo. Noi scendiamo, eh. Vuoi qualcosa anche tu? Stai tranquillo, respira. Non è successo nulla di grave. Porca p***a, tr***a, vanno in grado quel giorno e che... Senti, neanche il palino col prosciutto. Niente? Secondo te sei arrabbiato? Ma secondo me no. Ma chi ti ha detto di fermarti? Scusa. Forza, su, tira. Quanto manco, eh? 12 chilometri. Vai, forza, su. Forza, su. Forza, su. Forza, su. Forza, su. Grazie a tutti.